bentornati su my football jersey oggi vediamo un'altra maglia retro questa volta del real madrid per la stagione 2012 2013 la maglia di cristiano donaldo e a me la maglia piace molto ve lo dico già nella mia classifica questa prende 5 stelle molto elegante il real sempre una maglia dotata di grandissimo fascino ditemi nei commenti come la pensate qui in alto vedete il costo questo non si discute è un costo incredibile vi invito a mettere alla prova il sito in descrizione qua sotto trovate i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere perché trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari quindi il costo diventa ancora più conveniente ora vi lascio la parte finale prima però se il canale vi piace mi raccomando iscrivetevi e lasciate un like al video questo è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan ciao ciao ciao